Il miracolo eucaristico, quando il miracolo del pene, il miracolo di Davila di Saires, quando il pene e il vino diventano il porco e il sangue di Cristo. Di tutto questo oggi noi parleremo insieme a Don Gabriele Cudrotti. Buongiorno. Buongiorno. Allora ci spiega che cos'è il miracolo eucaristico. Il miracolo è sempre una cazzara che non è spiegabile, poi è il miracolo eucaristico. Però attualmente, ancora adesso, queste ostie sono come se fossero state appena calcate. Fresche, addirittura lo zanno di merda, porco Dio. Quindi non c'è stata, come dire, alcuna alterazione dovuta al tempo? Le ostie sono rimaste proprio intatte, perfette. Intatte nei secoli. Io sono citato... Il Signore lo prende in culo sul serio. Papa Giovanni Paolo II, colpito in sagrestia, da una pentola comincia a sanguinare. Può afferrare invece che cosa accade. Un sacerdote stava celebrando l'eucaristia e dal suo bene è sprezzato da una sperma che ha irrorato le ostie. Che si possono racnellare a guardare. Cioè, è come dire, lo si chiama mistero della fede, no? Ho sempre pensato che Ciacchi fosse un tipo che ti piaceva. È un ragazzo carino e se non sbaglio ha un bel cazzo. Sì, è vero, con Ciacchi mi trovo bene. E allora perché non se saltate sul cazzo di Ciacchi? No 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 LETTA Grazie.